sto cercando il cavo per il controllo è quasi scarico forse qua lo faccio lo faccio ma si sta caricando ok io il gioco l'ho già finito ho appena scaricato il dlc chissà l'espansione questo è un arrivo e questo non so come sia proviamolo tre episodi partiamo dal primo ovviamente allora vediamo un attimo ap di check point manuale e quindi questi sono quelli manuali ok se faccio continuo e salvo manualmente mi proviamo non voglio perdere il salvataggio finale ok questo l'ho già visto ma vabbè comunque mi fa ripartire quindi posso fare anche no start carica se l'ultima bozza si ok questo va bene ok 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 a fan a fan the dictionary definition of the word is an enthusiast a fervent devotee an abbreviation of fanatic what comes across to an outsider is a dangerous obsession or even madness is something entirely different from the point of view of the fan itself to be a fan to be a fan is a joyous existence one filled with the happiness that stems from knowing with utter clarity the purpose of the purpose of your life but what if that purpose could be more still if you could be lifted out of the flock as your idols chosen one the only one who could decipher his secret messages what lengths would you go to save the object of your obsession in night springs tonight's cult classic episode number one fan io non ricordo nessun tasto and then all your time wishing and hoping and dreaming for something and then PAM destiny shows up at your door like a mailman with a package you were pretty sure got lost because you ordered it like six months ago but that's ok and your destiny has eyes like sunsets and a beard like mahogany colored velvet you don't really mind how it arrives che grafica sto gioco ma ricordo quello del caffè quella fissata con con Alan Wake oh subito così non ricordo come si corre anche se non penso che sia possibile correre ora ok storage magazzino chi è che mi ha dov'ho andare ovviamente nel bancone dietro bancone questo è già fatto sì ah vuole del caffè la no 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 o che i ragazzi normali non si può continuare non sarà mai successo come tu non sei con questa attitudine vita non è un ordine di hashbrown quindi non aspettate a qualcuno che lo porti a te wow è difficile grazie per mi raccontare quello che ho bisogno di ascoltare no problem here you go a person of your genius and grace is wasted serving coffee to us regular joe's and joanne oh i don't mind ok per fortuna alcuni dialoghi sono corti qui sarà bello lungo mi sa il dialogo fine oh che fortuna qui c'è qualcuno di sinistro dell'altro caffè là ok 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 grazie non era facile questo è il caffè meglio mettere questo pot qui che mi piace che mi piace successivo proprietario e operatore della città più popular ma non era non è ho posto un po' di cose qui no 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 dai ti odio ecco così quando devo vedere una cosa qui alzò un pelino il gioco così dovrebbe andare forse un altro peso c'è da che si può andare ok piatto ok Perchè non puoi parlare con lui? Oh, abbiamo le nostre maniche di parlare. Vedo nella notizia che hai salvato ogni città da quella attacca. Grazie! Grazie! Queste leccioni di yoga davvero spaventavano. Non è Steiner entrare in la competizione del paio del paio? Certo! Siamo facendo la nostra venta 20. La mia date la notizia era un totale busto. Sei l'experta del romanzo. Quali consegno? Sì, ma prima mi racconta tutto. La storia短a, mi ha detto che mi sono vestiti come un professore di gioco. Ma prima cosa è importante, non? Oh, ancora. Certo. Showt'levi la reale te e che tutto funziona. Parlate del mole che ti preoccupi quando ti stai a dormire. Beh, io provoci. Grazie mille. Non lo ha detto. Questa è un'errolla. Questa è un'errolla. Logico, fan numero uno. Ora mi fa entrare nello storage, infatti, dove sarà il libro? Ora mi fa entrare nello. Dipendente del decennio. Ok, ma il libro? E' qua, la missione, come la vedevo, non mi ricordo. Qui? Qui? Qui dietro non ci va. Ah, cosa devo fare? Ho già scritto di prendere il libro? Oh, mi sbaglio io. Quindi? Oh, così sicuro, ok. C'era scritto di prendere il libro e lei ha anche commentato che non mi rovini le pagine. Questi sono due libri ma me lo fa prendere. Sto cliccando ma niente. Cos'è? Avrebbe commentato se non ce l'aveva? Avrebbe detto qualcosa, non lo trovo. Quindi? Come vedo? Ecco. Prendi il romanzo? Eh, prendi il romanzo nel magazzino. Che cazzo è? Sta a vedere che devo chiudere la porta. Però, come faccio così? No, nulla. Nulla. Ma stia scherzando? Cazzo è? Cazzo è? Cazzo è? Cazzo è? Cazzo è? Ma l'avrezzata è? Ma l'avevo cliccato anche prima? Che figata, chissà se graffio o veramente Alan. Non ci credo Non ci credo Così ti danno tutto subito Ah no, vedi, la balestra non la puoi prendere Fucile, sì Però non so cosa sia meglio Pistola, no Quindi mi fa prendere Ah no, aspettate Fucile Non mi fa prendere altro E le munizioni sono pieno Però non guasterebbero E ora devo andare Il cantiere navale Di qua? Sì, di qua è impossibile Che stronzata comunque Ma di qua Molto la Quentin Tarantino C'è un tizio con la moto Ah, quella di la moto Ma perdo, perdo frame No, sono a 30 Ma chi è Alan Wake No Ma non so se ci sono dei segreti Degli oggetti Fatemi vedere un attimo Qui non vedo un cazzo No Come era la schivata Ok No No Così si spara Così Oh, questo forse c'è qualcosa Allora Allora Li trovi degli oggetti Subito all'inizio Prima di andare dal bikers Voglio andare da qua Se mi fa entrare qui Eh, no Forse si sblocca dopo il dialogo Da c'è qualcosa Non vorrei mai che Dopo il dialogo Non posso più prendere nulla Ma forse qui sono Ci sarà un'ondata Qui non c'è nulla Sarà un'ondata di ombre Questo l'ho già preso Ma perché ma Non me l'ha preso questa Ok Si, è graffio Si, è graffio È un fratello Ma non possiamo tutti essere perfetti Non c'era l'idea Che aveva un fratello Di pensare che c'erano due C'erano Allora Questo tempo Dopo di oggi Non ci sarà Non più scrivere Non più libri Non più vivere Noggiare Ma è il suo fratello Ma sei il suo fratello C'è sicura Quei due Puoi parlare E sapere Che abbiamo Molto in common E dopo che Chacere Puoi andare Poi venire E io Andrei Poi con potente Per i Ovie Fanno Poi 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 Noi Anche E Sì 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 C'è Sì Sì C'è Sì Che C'è Cosa 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 Ho La Questa Cosa 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 non lo troverai mai. Non ti farai mai con questo. Ti farò parli. Mi ho un'armi di persone che odiano questo hack quasi tanto come io. Sono pronti a morire che stoptano di scrivere un libro di un libro che fai. Cosa hai? Ho una scuola! Beh, ho una... Cosa, è una reale scuola? Ok, admito, è una... Non ho aspettato. ma non importa, non puoi stoppare tutti noi mi faccio passare non capisco vaffanculo non si ma io devo andare la non capisco come riesco a passare oh adesso vaffanculo ancora molto veloce lei ma sbaglio sempre tasto non mi ricordo come si caricava ok ok all I needed now was an unlimited supply of black coffee and crippling emotional trauma caused by the untimely death my spouse more haters ok ok oh era suo Oh no 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 Oh no 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 Questo giochino, cioè questa espansione è proprio divertimento anche perché colpi infiniti. E' infiniti per un certo punto, però ha 333 colpi, cazzo Poi mi farà combattere contro graffie Non si stunnano, cazzo No, ho sbagliato tasto Cazzo vero Fa il culo Semi malvagio Non so quanto dovrino C'è un episodio 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 E' sbaglio tasto Un punto in meno d'Alan Wake Sì. Non c'era mai fuori! Mi lievo quando ho detto che non c'erano più tretti! Tu stai iniziando a perdere me, mister! Where is my rider? I just haven't looked like. I was shot down at the beach. He's just out at the back. First, he kidnaps my rider. Then, he calls him a tea drinker? He had crossed the line. I was going to go to that beach and give this jerk the scolding of a lifetime. E come ci arrivo la spiaggia? Di qua ovviamente, no? The twin said he was down at the beach. Hey, me and my bike were just enjoying the view. Where is my rider? What do you even see in that cry baby? He's boring, he dressed like a nerd. Hush your mouth! He is a stylish intellectual who is in touch with his feelings. You're starting to cramp my style, babe. And I'm not telling you where he is. What did he ever do to you? I, uh, already told you that? At the boatyard? I feel overshadowed by success, like he's taken everything I can't compete. Oh, right. I remember now. It's, uh, self confidence thing. Uh, w-well, it's a bit more complicated than that. You are going to tell me where he is, or else. Or else what, babe? You asked for it. You are rude. You have no manners. You're too cool to care attitude is attractive initially, but drive people away after they realized you're emotionally incapable of letting your walls down, to reveal that you are a vulnerable human being, just like everybody else. You were trying way too hard with that outfit. You were trying way too hard with that outfit. I don't like being seen. Listen, I never had your precious writer. I was just keeping you distracted while my army of haters stormes this mansion. Now the love of your life is doomed. DOOMED! Ha 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 ha. Nooooo! Nooooo! That was fun. Even with my famously keen precision. Actually, no one... I think no other players, watch it. Let's go behind that hex. If I don't hit you too fast. V- dikk– Also, on the back side, if I'm doing so– Grazie. 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 Ok. No. Eh, sbaglio il tasto. Non mi ricordo che tasto dove lo uso il quadrato per raccogliere le luose. Sbaglio il fuori i luigi. Opsi! 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 Io conosco che tu, il mio numero uno fan, non avrebbe mai fattato a le mie miei ragazzi scoperto. Il mio amare è così inesplicabile come il sole. E proprio così fai. Ma io conosco il tuo cuore che non mi riuscirà. Sei l'unica che mi può salvare. Io credo in te. Il mio amare è creduto in me. Siamo le nostre spiriti. Siamo insieme come una bicicletta e quella fai che la bicicletta in cui la bicicletta. Siamo collegati con il amore e il destino. Il mio amare è pensato di essere il mio. Sempre e sempre. Non c'era il tempo di perdere. Io ero l'unica che poteva salvare il scrittore. E la vera soul della literatura. Da questi sbagli amici. Il fate di tutta l'arte resta sulla mia scuola. I risultati non erano alti. Ho ancora questa casa. Seguo questo dialogo poi io lo fumare. E torno. Non ho capito nulla. Non raccoglie. Non raccoglie niente. E qua ci lascio non curata. Forte notamente. I cuori, bellissimi. Non capisco cosa dovrei fare. Eh immaginavo. Devo capire. Forse se sparo i cuori e li fermo. Non lo so. Ma se faccio una cosa così io, non mi fa sparare, lì sì, ok, intanto lo carico, e poi metto il fucile a pompa, e se mi fa prima andare qui... Non mi fa guarare, non mi fa guarare... Cazzo, non capisco il perché, forse è un bug, ma... Non è così, cura, ok, forse è meglio fucile a pompa contro i cuori volanti, quante ne ho di cura 7, dovrebbe bastare... Non mi fa un culo... Non mi fa guarare, quando mi colpisce... Non mi fa guarare... Non mi fa guarare, non mi fa guarare... Non ci spettaccio. Sì, mi fai per ora. Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti 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 Quindi Grazie a tutti 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 Da qui Questo è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti